I cittadini sono sottoposti ad una pesante pressione fiscale, ma i comuni lamentano una grande difficoltà ad erogare servizi. E intanto non è stato ancora risolto l'annoso problema della regolarità della TIA, richiesta dal lato simeto ambiente nel corso degli anni. CGL e Feder Consumatori di Catania a questo proposito hanno tenuto una conferenza stampa per fare il punto sul problema, illustrando le ultime iniziative di carattere legale. Per gli anni che vanno dal 2004 al 2008, nonostante sia stata conclamata l'irregolarità e l'illegittimità della TIA determinata dalla società d'ambito e non dai consigli comunali, non si è ancora voluta trovare una soluzione che valga per tutti i cittadini interessati. Centinaia di ricorsi, ma la strada verso la legalità è ancora lunga. Quella di oggi è stata definita una battaglia per la legalità. Spieghiamo cosa è successo e cosa possono fare i cittadini per far valere le proprie ragioni. Noi chiediamo che sia riportata legalità ed equità in questo complesso scenario. Chiediamo che si aprano dei tavoli di confronto con lato e con la società d'ambito e con i comuni, proprio per mettere fine al pregresso. Perché oggi la situazione è minimamente risistemata, stiamo parlando degli ultimi anni, ma c'è un pregresso che riguarda 4-5 anni. Da un lato chiediamo questo, dall'altro invitiamo i cittadini a muoversi per fare valere i propri diritti. Perché è importante che abbiano questa fiducia nelle organizzazioni grosse che sono in grado di seguirli e serie soprattutto. Ma dopo aver vinto queste cause sulla illegittimità delle tariffe emanate da Simeto Ambiente negli anni di 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008, quindi questo dimostra che avevamo ragione a dire che avevano fatto male sia lato sia i comuni a non intervenire correttamente sulle tariffe. Adesso diciamo che è corretto che ci si sieda insieme al lato, insieme ai comuni per rideterminare le tariffe e quindi restituire le somme pagate in più dai cittadini che hanno pagato e riconoscere il diritto a non pagare a chi non ha pagato quelle tariffe, però rideterminare appunto le tariffe e verificare come adesso si possa definire una tariffa che sia corretta e legittimamente ed equa. Cosa vuol dire equa? Vuol dire che siccome quelle tariffe erano ai so se bisogna fare in modo che adesso le tariffe siano abbassate, specie in realtà come quelle della nostra provincia, delle zone di cui parliamo, in cui i livelli di povertà sono altissimi. Inoltre naturalmente chiediamo nel confronto con lato e con gli ai comuni che il servizio di igiene ambientale fornito ai cittadini sia davvero migliorato, sia un servizio efficiente e di qualità che tenga veramente pulite le nostre comunità, cosa che purtroppo ad oggi non registriamo.